In questo canale ci occupiamo di profezie e dobbiamo segnalare la nascita di un nuovo profeta, Pablo Aio, un giornalista ufologo che seguiamo con interesse, che qualche tempo fa, in un suo video che qui vi segnaliamo, con il coronavirus, le verità celate, portava avanti un'idea complottista che in realtà questo video, questo Covid, non sia di origine naturale, ma è creato in laboratorio, quindi sfuggito dai laboratori cinesi di Wuhan. E su questo tema c'è stato un lungo dibattito, ci sono stati molti virologi che hanno portato avanti delle prove che non era così. Ma incredibilmente il Presidente Trump ha fatto diventare la sua bandiera. Abbiamo visto che in questi giorni ha cominciato a urlare con voce sempre più alta accusando i cinesi che questo virus proviene dai laboratori cinesi di Wuhan. Ma la cosa è andata anche oltre, perché vediamo che i giornali di oggi danno delle notizie allarmanti, pericoli di guerra. Vediamo che libero Stato Unito e Pechino, tensione alle stelle, le navi degli Stati Uniti sono già nel Pacifico, guerra vicina. Vediamo che un altro articolo, Tempi, entra più nel merito e fa vedere la zona in cui c'è questo conflitto che è il mare che è compreso tra il Vietnam, la Cina e le Filippine. Quindi c'è una serie di piccole contese territoriali che potrebbero essere la scusa per innescare un confronto. Quindi questo articolo racconta il bullismo del dragone, ci sarebbe della Cina, e le contromosse americane. Ma noi seguiamo questa questione, guerre tra USA e Cina, anche da un altro punto di vista, perché ci interessiamo a questo pianeta Nibiru, che è un pianeta che noi sosteniamo e portiamo delle prove, in realtà non è una bufala o un'invenzione, ma qualcosa che esiste, e sarebbe stato già avvistato. Quindi siamo alla ricerca di indizi, anche nelle profezie, che ci diano informazione su questo pianeta misterioso. Ed ecco che nelle profezie di Nostradamus abbiamo trovato delle profezie che citano una stella capelluta. E quindi abbiamo iniziato a interrogarci se questa stella capelluta sia una normale cometa o invece questo pianeta Nibiru. Quindi c'è una quartina, che è appunto una delle tante, in cui c'è una cometa. Ovviamente nella storia ci sono state tante comete, quindi si apre un dibattito, ma questa stella cometa è una normale stella. E quindi cerchiamo gli indizi, quindi ci sarebbe questa quartina che cita che i tre gran principi nemici diverranno, colpiti dal cielo, la pace e la tremante terra. Quindi ci sembrano delle dichiarazioni apocalittiche, perché escono fuori dal normale. E poi c'è una cosa strana, una curiosità, che c'è il po' e il tevere in piena, è un serpente sulla sponda posto. Quindi questa cosa non siamo riusciti a trovarla nella storia. Quindi riteniamo che sia una quartina che riguarda la fine dei tempi. Ma noi proprio leggendo le profezie ci siamo fatti un'altra idea della crisi, un'idea che noi proponiamo in questo video. Queste che noi vi facciamo vedere sono dei video, questo è il titolo, che potete trovare nel nostro canale. Ci siamo fatti un'idea che dietro questa tensione tra la Cina e gli Stati Uniti c'è altro e c'è la fine dell'era della globalizzazione. Quindi noi sosteniamo che durante l'era della globalizzazione la Cina abbia accumulato ingenti quantità di moneta estera, in particolare di dollari. Quindi con la guerra dei Dazi si è iniziata una nuova epoca in cui la Cina vuole uscire da questa situazione e disfarsi di questa montagna di dollari. E quindi questo, vediamo un articolo che è di gente che di oro se ne intende, Swiss Gold, dei venditori di oro, che già in tempi non recenti si interrogava perché la Cina sta acquistando più oro. E quindi vediamo proprio quest'articolo che dice che la Cina sta cercando di scaricare il dollaro accumulando nuovamente oro, quindi diciamo per poter sostenere uno yuan autonomo, una moneta, c'è bisogno di una riserva aurifera per garantire, quindi vediamo che qui dice che dovrebbe provare a cementare un rapporto tra yuan e oro. Quindi qui sempre quest'articolo dice che gli Stati Uniti davanti a una cosa del genere sarebbero veramente impotenti perché come potrebbero gli Stati Uniti eguagliare la politica monetaria così sana della Cina perché quella di avere grosse riserve aurifere è una politica sana, quindi l'afficina a finanze pubbliche sane è molto meglio degli Stati Uniti. Quella che invece non è sana è quello che sta facendo adesso Trump che sta ordinando alla Federal Reserve di stampare ingenti quantità di denaro e sta facendo la politica di gettare soldi con l'elicottero, stimolato anche dal fatto che all'orizzonto ci sono le elezioni presidenziali quindi si vuole presentare alle elezioni presidenziali come un benefattore dell'America quindi dare questa epidemia è una buona scusa per inondare tutti i ceti sociali di soldi si parla proprio di mettere una cifra in automatico su tutti i conti correnti delle persone quindi senza nessuna burocrazia e questo chiederebbe una grande popolarità. Ovviamente questo progetto della Cina di scaricare le sue riserve di dollari mette in crisi tutto questo suo progetto è quando qualcuno specialmente come Trump è con le spalle al muro potrebbe reagire in malo modo che sembrerebbe che è quello che stia facendo fino a questo momento a livello di minaccia. Quindi noi siccome leggiamo le cose in una prospettiva apocalittica abbiamo individuato in una grande inflazione i primi segni dell'apocalisse quindi chi vuole indagare su questo argomento e approfondire può consultare questa playlist del nostro canale.